Questo è un video di approfondimento sulla terza legge di Keplero. Abbiamo imparato che questa legge dice che i quadrati dei tempi che i pianeti impiegano a percorrere le loro orbite sono proporzionali al cubo del semiasse maggiore dell'orbita ellittica. Quella data è la versione moderna e semplificata della legge ma non quella originale dovuta a Keplero. Sulla versione inglese di Wikipedia appare la versione originale. Keplero parla di cubo della distanza media pianeta sole e non di semiasse maggiore. Tra l'altro Keplero non specificò nemmeno come calcolò questa media e diversi sono i modi per calcolarla. Ancora oggi si dibatte tra gli studiosi su questo aspetto e vi allego in descrizione uno studio recente. Ecco i dati che Keplero aveva a disposizione nel 1618 con i relativi calcoli per la costante. Le distanze sono date in unità astronomiche cioè in termini della distanza media terra sole. Nella quarta colonna vedete il rapporto cubo della distanza media e del quadrato del periodo trovato da Keplero. Se osservate questi numeri difficilmente riuscireste ad accettare che si tratti di una costante però questo per Keplero fu sufficiente per avere un preciso indizio. D'altra parte ricordate che Keplero parlava di distanza media. Era consapevole che i dati che aveva a disposizione non fossero estremamente precisi per cui tutto ciò bastò a Keplero per formulare quella legge. Ricordiamo ancora una volta che Keplero si limitò soltanto alla descrizione cinematica dei modi del pianeta. Non aveva ancora una comprensione delle cause e questa fu opera di Newton. Per cui Newton si ritrovò questi numeri, questa legge e si pose il non semplice compito di trovare una causa che potesse giungere a spiegarla. Il compito di Newton fu enorme, dovette inventarsi gli strumenti matematici per risolvere il problema non solo, ma dovette inventarsi la legge di gravitazione universale, quella che conosciamo e che abbiamo visto in passato. Newton scoprì che la legge di Keplero necessitava di due correzioni. La prima era sostituire alla distanza media proprio il semiasse maggiore. Quindi la terza legge di Keplero la conosciamo nella formulazione di Newton. Quelli mostrati sono i dati migliori che abbiamo al momento. Quindi abbiamo aggiunto due pianeti, Urano e Nettuno. Se effettuiamo questo rapporto e la massa del Sole la inclobiamo in questo termine, allora questo rapporto, così come il rapporto al cubo diviso t al quadrato deve continuare a rimanere una costante per tutti i pianeti. E se osserviamo questi numeri dobbiamo riconoscere che c'è stato un grosso miglioramento rispetto a ciò che aveva trovato Keplero. L'errore relativo calcolato rispetto alla media di questi numeri è di gran lunga più piccolo di quello ottenuto da Keplero. Tuttavia se osserviamo con attenzione questi numeri, ho guardato un po', 5 0 27 0 27 0 27 qui abbiamo 0 32 qui 0 28 e poi si ritorna a 0 27. Quindi un errore relativo che è circa dell'uno per mille rispetto al valore medio. Questo piccolo errore potrebbe essere ingenuamente imputato ad errori sperimentali. Questo esempio mostra come in fisica bisogna stare attenti a non nascondere aspetti importanti del fenomeno dietro il paravento degli errori sperimentali. Un errore dell'uno per mille in astronomia non è affatto di poco conto e all'occhio di un esperto queste deviazioni devono far suonare un campanello di allarme e Newton ne era perfettamente consapevole. Immaginare il sole fermo con il pianeta che gli gira attorno significa affrontare il problema ad un solo corpo. Un problema tipico ad un solo corpo lo abbiamo già affrontato in passato a proposito del moto del proiettile. Questa approssimazione funziona quando la massa del proiettile è molto più piccola dell'altra massa rispetto a cui si muove. In questo caso il moto del proiettile non influenza il moto della terra. Nel caso del moto dei pianeti rispetto al sole la corretta trattazione del moto consiste nel considerare il problema a due corpi. In pratica pianeta e sole sono soggetti alla stessa forza ed il moto risultante più complicato e sorvolo sui dettagli. Chi è interessato cerchi in rete il problema dei due corpi e scoprirà che è un problema che ha una relativamente semplice soluzione matematica. Per i pianeti con massa piccola gli effetti sono trascurabili e si ritorna nel caso del moto ad un solo corpo ma per quelli grandi Giove e Saturno appunto gli effetti cominciano ad essere significativi e quindi bisogna necessariamente ricorrere al problema a due corpi. Dunque la seconda correzione consiste appunto nel considerare gli effetti reciproci della forza di attrazione. I calcoli mostrano che deve apparire anche la massa del pianeta nella terza legge. Se rifacciamo i calcoli notiamo un accordo ancora migliore e l'errore relativo si riduce di un decimo rispetto a quello precedente. In futuro ho intenzione di mostrare delle simulazioni per mostrare meglio come sono i moti nel caso del problema a due corpi. E per oggi è tutto, alla prossima!